Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata della nostra chiesa nella città oggi. Che come sempre di venerdì e in replica di domenica avremmo dovuto dedicare le novità librarie. Ma la situazione che stiamo vivendo anche questa settimana e probabilmente nelle prossime ci impone giustamente di parlare di qualcosa di più importante che ci sta veramente a cuore. E allora vi proponiamo i messaggi che l'Arcivescovo di Milano ha dedicato ai ragazzi che proprio in questi giorni, domenica 29, per chi ci ascolta in replica, oggi avrebbero dovuto vivere la grande festa di San Siro. Cresimandi e Cresimati 2020. Non si può e allora il Vescovo Mario si è rivolto così a loro. Lo sentirete tra pochissimo. Tre parole belle per orientare il cammino di questi nostri giovani. E quindi l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Cari ragazzi, ragazzi della Cresima, ragazzi e ragazze, che volevo tanto salutare domenica a San Siro. Vi saluto da qui, dal studio, dalla biblioteca solenne degli Arcivescovi di Milano. Adesso è un po' in decadenza perché questo Arcivescovo non è tanto amico dei libri. E quindi, ecco, però anche voi invece siete molto amici dei libri. Quindi, però, insomma, ecco, io volevo, voglio salutarvi. Non ci sarà San Siro domenica prossima, però quelli della FOM mi hanno giurato che lo faranno quando appena sarà possibile. Quindi aspettate, preparatevi, ma soprattutto naturalmente preparatevi alla Cresima, perché alla fine questo è veramente lo scopo dell'anno, anche se adesso magari il Catechismo si fa un po' sì e un po' no, magari non si sa bene quando riusciremo a uscire dall'emergenza, però, insomma, vi posso assicurare che la Cresima si farà e che San Siro si farà, ci troveremo lì. Però uno dice adesso in questo tempo che cosa posso fare, che non posso andare al Catechismo, non posso andare a Messa. Ecco, io vorrei insegnarvi tre parole, tre parole e spero che le impariate a memoria, perché poi a San Siro naturalmente dovrò interrogarvi. Ecco, quindi le parole sono queste. La prima è questa parola che penso che sappiate già. Ecco, parola è padre. Padre, perché padre? Perché lo Spirito Santo che voi state per ricevere, che io e gli adulti abbiamo già ricevuto, è quello che ci insegna a chiamare Dio padre. Però, come dice la proposta dei cento giorni, lo Spirito Santo parla tutte le lingue. Quindi io vorrei invitarvi a imparare a dire padre in tutte le lingue. Quindi se avete un compagno, per esempio, che parla inglese, voi chiedetegli come si dice padre in inglese. E scrivete, no? Fate un foglio e scrivete, come si dice padre in inglese. Poi non so, come si dice padre in francese. Come si dice padre in francese? Ecco, se avete un compagno che sa il francese, che parla francese, viene da uno di quei paesi dove si parla francese, chiedetelo. E come si dice in spagnolo? E come si dice in arabo? E come si dice in russo? Ecco, telefonate a tutti i vostri compagni di scuola che vengono da quei paesi dove si parlano altre lingue e imparate a dire padre in tutte le lingue. Perché? Perché questo è un esercizio molto semplice, che però ci dice che tutti siamo fratelli. Non c'entra che lingua uno parla, non c'entra che paese uno viene, non c'entra se è più amico della matematica o del campo di calcio. No, c'entra se è un figlio di Dio. Quindi la prima cosa è padre, perché lo Spirito Santo ci insegna a chiamare Dio padre. Quindi cercate di impararle in tutte le lingue, queste sono tutte quelle facili, ma tocca a quelle difficili. La seconda parola che voglio dirvi è noi. Noi, non è che io scrivo tanto bene, però insomma forse si capisce. Noi, ecco noi, vuol dire che quando uno comincia a dire io, deve un po' stare attento perché dice perché io dico sempre io, io, io. Noi dobbiamo imparare invece a pensare che siamo un noi, siamo una comunità, siamo una chiesa. Perché? Perché lo Spirito Santo, oltre che insegnarci a chiamare Dio col nome giusto, padre ci abitua a essere insieme noi, la chiesa. Quindi voi in questi giorni in cui siete a casa date un contenuto a questi noi, scrivete tutti i nomi che fanno parte di questo noi. Quando dite una preghiera, al mattino e alla sera, dite preghiamo per noi. Ecco noi, tutti noi, questi. Fate l'elenco dell'amico, della sorella, del fratellino, della mamma, del papà, della nonna, del compagno di banco, di tutti i vostri amici. Ecco io, se potete evitare di mettere il nome del cane, del gatto, forse è meglio perché non è che c'entra tanto con noi. Ecco, sono presenze simpatiche, però insomma non c'entrano. E l'ultima parola, è molto difficile, però questa ve la voglio insegnare lo stesso, è per, per, è una parola molto difficile, non si capisce bene cosa voglio dire. Comunque vorrei che voi ci pensate, no? Per vuol dire che uno dice, ma questo noi, perché cos'è? Noi, perché siamo al mondo? Che senso ha il cammino che stiamo facendo? Per dove, per dove siamo in cammino? Ecco, è il tema che si potrebbe anche dire la vocazione, però non nel senso che magari uno pensa di dire, adesso viene qui il prete a dirmi, vai a fare questo, quell'altro. No, no, piuttosto è per dire che noi dobbiamo fare delle scelte per diventare degli adulti, per imparare a chiamare Dio come padre, per costruire questo noi, per essere felici, per, per, per. Ecco, è la destinazione, dove siamo destinati. Ecco, vorrei insegnarvi queste tre parole, in tutte le lingue in cui voi potete impararle, ma soprattutto per viverle come lo Spirito Santo ci insegna. chiamare Dio come padre, essere un noi, piuttosto che un io, che si chiude in se stesso, che pensa solo a se stesso, e guardare al futuro, guardare a ciò per cui siamo al mondo, per. Ragazzi, ci vediamo a San Siro, ragazzi, ci vediamo alla Cresima, ragazzi, vi aspetto che diventiate grandi, perché insieme dobbiamo fare delle cose meravigliose. Ciao a tutti, salutate i vostri genitori, salutate i vostri amici, se anche non salutate il cane, il gatto e il canarino, io non mi offendo. Grazie a tutti.